Se George Lucas, invece di pensare a spegnere 70 candeline, si interessasse a questa clamorosa notizia, si guadagnerebbe l'ottavo Oscar senza troppa fatica. Ma per ora il cinema non c'entra nulla. Pare che alcuni militari americani stanziati in Afghanistan si siano però trasformati in registi d'assalto e abbiano ripreso un UFO che attraversava i cieli afghani. Telefonino pronto, il filmato che sta facendo ovviamente il giro di YouTube, mostra un oggetto volante triangolare che senza emettere suoni all'improvviso spara dei lampi fotonici in terra su un accampamento talebano che salta in aria. Possibile che gli alieni siano venuti ad aiutare i Marines della NATO? La ritirata delle truppe dei diversi paesi dopo 10 anni di missioni nella Repubblica Islamica dovrebbe avvenire intorno alla fine dell'anno e la popolazione potrebbe non farcela tenere lontani i fondamentalisti. A questo punto, vista l'eccezionalità delle immagini, dobbiamo prepararci ad un nuovo capitolo di Guerre Stellari?